Birindelli, punta e converge, porta il pallone Birindelli, avanza anche Marlon, Sensi, di vicino Machine, Caprari dentro per Machine che controlla ancora il pallone per Petagna, largo da Birindelli che non crossa e torna, sbaglia però, Zaleski deve rimediare e rinvia bene. Tami Hebram, ottima torre per Dybala che può scattare in campo aperto, Dybala davanti al portiere, Dybala, Paolo Dybala, 1-0 Roma al diciottesimo, la rete della Hoja, il primo gol con la maglia giallo-rossa per l'argentino, sull'assist di Hebram con una torre perfetta, arriva lo scatto di Dybala che fulmina di Gregorio e fa 1-0. È stato molto bravo a credere nello spazio di questa azione sul filtrante quasi casuale di Hebram, Dybala si lancia, non può più prenderlo a quel punto Sensi, è la prima vera occasione da gol. Dybala non perdona, è 1-0 per i giallorossi. Fa festa sotto la curva, qui bravissimo però, Hebram a tenere con l'equilibrio e indirizzare in maniera perfetta il pallone, la corsa, la velocità, l'accelerazione poi di Dybala e il piazzato, lo fanno il resto. Un'altra inquadratura, un po' poco reattivo Sensi a capire l'intenzione di Hebram, però c'è tutta la velocità e la capacità di Dybala di stoppare il pallone e portarlo avanti, coordinarsi a dovere, tutto in corsa, tutto molto bello. E poi la Dybala a Musk, questa invece è Stroppa che richiama i suoi. Hebram è stato bravo a farsi trovare pronto, Dybala con il guizzo del fuoriclasse, fa 1-0. Larghissimo Mancini, quasi con i piedi sulla linea laterale, la Roma che prova a interscambiare le posizioni in campo. Zalewski, il Monza adesso non lascia spazi, lancio di Matic, ancora in verticale, Hebram sbilancia l'avversario, il 9 davanti al portiere di Gregorio, arriva Dybala in scivolata! Paolo Dybala, doppietta per lui al 32esimo e già 2-0 Roma! Bravo a seguire l'azione sulla parata di Di Gregorio, il più lesto è l'argentino che riesce a spingere dentro il pallone del raddoppio, gli applausi dei tifosi fa festa! Paolo Dybala è stato molto abile, Hebram ha punito, una difesa molto alta quella, Brianzola, però non è riuscita a recuperare, qui malissimo Marrone che valuta in maniera errata il rimbalzo, arriva Dybala come un treno, anticipa lui tutti quanti, ed è 2-0 per la Roma, di nuovo Ebraham e Dybala, protagonisti della serata giallorossa, per il Monza sembra già un'impresa impossibile, è stato bravo Dybala a intervenire, e poi prima di tutti, prima di Carlos Augusto, c'è Dybala e di Gregorio che si nasconde la faccia con la maglia, tutto facile per la Roma. Grazie!